In Sicilia si trovano alcune delle più importanti infrastrutture critiche, siano esse comunicazioni satellitari, siano esse la comunicazione di traffico via internet con i cavi sottomarini, oppure gasdotti e elettrodotti che sono importanti. È un crocevia importantissimo tra l'America e Medio Oriente e l'Asia. Quindi riteniamo che ci sia bisogno di aumentare la consapevolezza su rischi e minacce e noi, in quanto leader mondiale come Fortinet, tra le nostre attività di responsabilità sociale c'è anche quella di contribuire, non solo con soluzioni, ma migliorando la consapevolezza, la formazione e avviando, ove necessario, anche partnership per aumentare i livelli di difesa. Spesso non si ha la percezione di quanto sia profittevole poi investire in termini di sicurezza informatica. Si pensa sempre e spesso a costruire un'infrastruttura informatica. Oggi bisogna cominciare a pensarla non soltanto nei termini della sua costruzione, ma della sua costruzione in sicurezza. Si discute di un tema delicatissimo, la sicurezza nella pubblica amministrazione, che poi significa sicurezza dei cittadini. C'è un impegno condiviso da parte di tutte le forze del sistema paese, da parte della Regione. C'è un impegno di utilizzare un fondo con legalità di 26 milioni che il Ministero ci ha consentito di poter traslare nel successivo anno anziché perderlo. E questo ci darà una forte spinta. Lavoreremo per questi fondi, lavoreremo per fare in modo che la digitalizzazione del nostro sistema vada sempre più avanti, perché con questo sistema anche la sicurezza sarà maggiore.